Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, tante novità anche nel video di oggi per quanto riguarda il futuro di Fortnite. Purtroppo, ve lo dico subito, non abbiamo nessuna notizia sulla patch 10.30. Purtroppo ragazzi non è stato rilasciato nulla di ufficiale e non si sa ovviamente il perché, ma tutti si aspettano che nelle prossime ore Epic Games rilasci magari qualche aggiornamento, qualche tweet che ci lasci anche un pochettino capire il perché c'è questo ritardo. Tutti sperano, ovviamente, in una possibile collaborazione con IT che magari ha ritardato per dei problemi, altrimenti non avrebbe veramente senso. Ma nel video di oggi parleremo, siamo subito arrivati così al Dark Reflection, se zveee allora tutti... Il primo video che rifaccio dalla postazione sono un attimo... Parleremo appunto di alcune novità della patch 10.30, parleremo anche del Dark Reflection Bundle. Anche qui, altra modifica di Epic Games, cambiato proprio sul finale il nome del bundle, perché, chi lo sa, non si sa. Cercheremo di capirci qualche cosa. E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati su quello che succede in Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto... L'ho dimenticata nello zaino del mare. Gli, 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 gli. Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima, l'avete già vista? L'avete già vista? Avete già pensato alla risposta sicuramente? La domandina. La domandina ve la devo fare anche ieri, mi avete risposto in tantissimi... E vi ringrazio per i vostri commenti. Domandina di oggi molto semplice. Ma se potessi scegliere quale arma rivolresti in game, non proprio tra queste che vi sto facendo vedere, tra tutte quelle che ti vengono in mente, ce n'è una che rivolresti in game? Ragazzi, chiamatemi pazzo, dite quello che volete, ma io rivolrei in game le doppie pistole. A me piacevano tantissimo, tantissimo. Anche perché non trovavi un pompa, usavi le doppie pistole. Provavi a sparare uno da lontano, lo prendevi, lo demolivi con le doppie pistole. Io rivolrei le doppie pistole in game. Non mi sembra che si possano definire stravolgenti per il gameplay attuale. Fatemi sapere invece le vostre armi, quali sono. Ma quindi... Ciancio le bande! I bando alle ciance. Eccolo qua, l'avete già visto prima, ragazzi. Finalmente, l'immagine ufficiale. Ve l'avevo fatta vedere anche sulla pagina Instagram Xyuder. Il nuovo bundle, che non si chiama più Dark Legend Bundle. Io penso che sia per evitare fraintendimenti con l'altro bundle che deve uscire il 5 novembre, che invece è ufficiale. Si chiamerà Dark Reflection. Questo si chiama... Dark Legend. È un casino di nomi, non capisci niente. Questo, ragazzi, si chiama invece ufficialmente Dark Reflection Pack. Non vi sto neanche a far rivedere le skin, perché tanto sapete tutti quali sono. La versione oscura di Jonesy, la versione oscura del Jolly, la versione oscura del Cavaliere Rosso. Sappiamo però, ragazzi, che da ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, in Nuova Zelanda, o è sempre in Nuova Zelanda o in Canada, fanno le cose... Non so che... Mi pagano i cash per probabilmente avere le esclusive. Era già disponibile l'acquisto del bundle, il che probabilmente mi lascia pensare che oggi sarà disponibile per gli utenti di PS4, perché è sempre così per ogni bundle, e da domani, molto probabilmente, sarà invece disponibile per tutti gli altri utenti, anche quelli da PC come me. Il prezzo del bundle, ovviamente, allora, in Nuova Zelanda si paga 25 dollari, però non è proprio la conversione come il dollaro americano. Secondo me siamo sui 19.99, non credo costi di più. Il bundle oltre alle tre skin, vi ricordo che ci dà i due backpack, e sembrerebbe invece che il piccone... Non me lo ricordo, fatemi vedere. No, è incluso anche il piccone, perché abbiamo anche la descrizione del bundle, che dice dove il cubo è corrotto, c'è solamente oscurità qui. Prendi il controllo del lato oscuro, indossando il Dark Reflection Pack, che include i seguenti cosmetici. Le tre skin, i due backpack e anche il piccone, quindi confermo, che è incluso. Insomma, ragazzi, un bel pezzo da collezione, se siete appunto collezionisti di skin. Io sinceramente credo che lo prenderò appunto per il discorso collezionistico, però tanta roba, lo shield, secondo me, è molto molto carino. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento, e si parla ovviamente della collaborazione di Fortnite con IT, che gentilmente mi ha coperto, non si è capito bene il perché. Ecco, mi sono tornato. Collaborazione con IT. Cosa è successo? Cosa è succedente? Anche qua non vi sto a dire tutto quello che già sapete. Abbiamo perso i palloncini, non sappiamo se c'è la skin. Abbiamo visto la macchia nera anche ieri mattina. Lengame, signori, arriva una risposta ufficiale dal supporto tecnico di Epic Games ad un leakers, ad uno streamer abbastanza famoso. Ve la vado a far vedere, non vi faccio vedere il nome ovviamente. Hello Chris, il nome vero del personaggio. Bla 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 bla. La parte interessante è che dice, Fornao, per ora, l'unica informazione che io posso condividere con te è che i palloncini erano un teaser per un evento, per il prossimo evento in arrivo. Quindi ragazzi, questa mail è fondamentale. Io credo che sia vera. Anche perché la persona che l'ha pubblicata è abbastanza affermato. Quindi sarebbe molto strano che fosse una roba fake. Quindi non abbiate paura, non abbiamo paura. Anche io vorrei tantissimo la skin di It. E ci sta un sacco che questa mail ci dia delle informazioni molto più dettagliate. Palloncini facevano parte di un evento. Quale evento? Secondo me, quello di It. Passiamo direttamente ad un'altra cosa molto molto interessante che è il cubo. L'isola che gira intorno alla mappa che tutti conosciamo. Il cubo sta cominciando a incrinarsi ragazzi. Che cosa vuol dire? Beh, voglio lasciarvi con una clip che dura un minuto e mezzo ma ci riporta indietro ai tempi delle vecchie season. Per chi non l'ha mai visto, ecco cosa successe quando il cubo si crepò. per chi non l'ha mai visto, ecco cosa successe. Alla prossima! Per chi non l'ha mai visto, ecco cosa successe. Per chi non l'ha mai visto, ecco cosa successe. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti